Grazie a tutti. 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 Vai Falzano, andiamo dentro! Mettila! Mettila! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai! 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 No! Ma dai, ma chi l'ha toccato? Grazie a tutti! Sì! 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 Bravo Ale! Grandi! Bello! Buongiorno! 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 Ok, cosa facciamoede a mangiare? Ok, cosa facciamo ad mangiare? Dai! Dai! esso… Adesso metto la lei! Se puoi mettere anduto! È stata una partita combattuta dai primi minuti, Bologna squadra che gioca la conosciamo bene, abbiamo fatto fatica inizialmente un po' andare a prenderli per modo di giocare poi abbiamo provato a mettere anche due punte, siamo riusciti un po' meglio, anche se erano bravi a uscire e diciamo che alla fine il risultato ci fa piacere, alla fine per episodi secondo me il risultato è più corretto, probabilmente dal parigi usciamo contenti con la consapevolezza che dobbiamo lavorare ancora tanto È stata una partita di settore giovanile, bella, devo fare complimenti al Monza perché comunque ha sempre delle ottime squadre e questa è una squadra che a me è piaciuta tanto, anche noi come loro abbiamo buona individualità, stiamo incominciando a lavorare, abbiamo incominciato a lavorare da quattro settimane, c'è un percorso da fare e quindi comunque partiamo da una base che a noi soddisfa e quindi abbiamo ancora nove mesi di lavoro per la partita, concordo con il mister, una partita equilibrata, si è un po' giocato sugli episodi e noi abbiamo comunque sono emersi un po' di natura in fase difensiva ma vengono a un calcio a nove quindi va ricostruito tutto per quanto riguarda proprio i duelli individuali ma anche l'occupazione degli spazi però io comunque sono soddisfatto, abbiamo fatto un bel percorso e quindi faccio i complimenti al Monza ancora e adesso cominciamo a lavorare per il campionato e per il proseguo della stagione Grazie